buona serata allora nel campo della masterizzazione professionale non tutti sono in grado di farla va bene non ci sono problemi allora facciamo vedere dalla z come si masterizza un disco abbiamo messo su un disco vergine eccolo qua da 4,7 giga un dvd vergine completamente vergine perché io prendo pacchi da 500 e sono 5 campane da 100 dentro la scatola pagandoli non so se 30 centesimi di uno viceversa ora questi qui sono quelli che dopo vengono anche utilizzati dalle aziende e poi sopra gli fanno la foto incisione niente allora entriamo perfetto e vediamo un attimino cosa dice noi schiacciamo duplicazione eccola qua e schiacciamo qua hd dvd perché io ho dentro qui ho un 160 giga di hard disk con dentro memorizzato tutto quello che devo fare continua con precedente duplicazione allora continuo ecco qua ecco a voi allora continuo prossimo video play inizia duplicazione eccolo qua adesso schiacciamo display e così vediamo in tempo reale allora il dvd può registrare fino a due ore mentre sull'hard disk ci sono circa otto ore che corrisponde a 190 o 100 giga più o meno in questo momento sta duplicando velocemente sulla linea 2 del masterizzatore questo è un masterizzatore professionale della philips oltretutto masterizza praticamente a 1080 praticamente pressoché al top del full hd ecco avendo anche la tele telecamera praticamente che è sull'analoga lunghezza d'onda di full hd di conseguenza praticamente anche la masterizzazione rientra in questi canoni oltretutto bisogna comprare anche dischetti che siano all'altezza non dischetti da marocchini di quelli che andate nei mercatoni cinchue mouse e tung qui praticamente ora la media plus e praticamente è la max data sono prodotti a verona se perché c'è un'azienda che stampa dvd stampa cd e stampa anche dvd e cd vergini quelli che vendono da registrare difatti io qua tutta la discografia vivaldi corelli albinoni e tutto quanto che è prodotta esattamente a bussolengo a verona perché tante tante persone non sanno dove andare a recuperare praticamente i dvd cd vergini o non sanno dove andare a farsi masterizzare praticamente la propria composizione va bene che tutti quanti adesso ultimamente sono molto abituati in casa a registrarsi tutto quello che vogliono però se vogliono farli con la siae praticamente che abbiano il bollino della siae e tutto quanto come potrebbe essere anche questo qua è di verona eccolo qua diego cal praticamente e andrea tomasi organo e tromba anche questo è stato registrato a verona ecco fatto la registrazione praticamente la duplicazione è finita adesso la registrazione informazioni sul disco vuoi tu finalizzare il disco perché io li prendo sempre dvd più perché meno si può fare a meno di finalizzarli però non sono letti dappertutto mentre col più basta finalizzarlo come sto facendo io adesso ecco qua schiaccio enter finalizzazione ecco ecco adesso mi sta chiedendo come desidero la pagina così a me sta bene così adesso mi sta mettendo ecco la prima immagine io posso scegliere fino a tre immagini però siccome che oggi l'uscita è stata di una sola visita sulla casa di cecilia gallerani e di conseguenza a me sta bene sì allora io schiaccio sì enter ecco qua adesso un attimo che fa la foto incisione sul disco e inizia la finalizzazione ecco parole inutile usarne sempre in linea due perché qui posso masterizzare su tre linee su questo qua ecco posso masterizzare direttamente sul computer posso masterizzare direttamente su scheda sd e posso masterizzare direttamente su dvd qual è il problema che molte persone anziane oppure praticamente chi vuole un ricordo del matrimonio di una visita quello che è adesso tutti quanti sanno il telefonino una cosa è l'altra però il telefonino è volubile perché basta che si rompa la scheda o si rompa il telefonino andate a perdere tutto sulla scheda sd essendo schedine praticamente di come queste qua di un cacchio si possono perdere mentre sul dvd avendolo memorizzato qua si possono un domani che dici io mio zio ne vuole uno mia nonno ne vuole un altro mio suorcio ne vuole un altro potete masterizzare uno due tre quattro dvd e il dvd praticamente il viatico migliore per entrare in tutte le famiglie persone giovani persone anziane tutti quanti hanno lettore dvd per guardarci film in casa quindi di conseguenza il dvd io lo preferisco sempre come come mezzo di visualizzazione diciamo a livello familiare ecco in questo momento qui praticamente me lo da completato allora cosa che schiaccio stop es che petto un attimo display dov'è che esche return vabbè insomma adesso qua un attimo perché questo qui è abbastanza complicato bene allora adesso facciamo così duplicazione non me ne può fregar di meno ora spengo tutto adesso schiaccio qui è il dvd adesso schiaccio no il hdd adesso schiaccio dvd allora apro il cassetto lo tiro fuori per far vedere che allora quelle righe diciamo che sono quelle lucide è la parte che non è stata registrata mentre quella quel cerchio opaco e la parte registrata allora noi adesso lo mettiamo su eccolo qua chiudiamo lo sportello chiuso caricamento perché deve caricare perché deve registrare circa un giga e mezzo perché anche se lo metto in dvd però praticamente eccolo qua disco non registrabile finalizzato stop però lo posso leggere eccolo qua play ecco a voi a san giovanni in croce la ricerca e il città l'anno vd i cecilia gallerani il città di parma il città di parma la corte la verità di parma eccolo qua adesso ci risiediamo un attimino adesso andiamo avanti di uno scalino eccolo qua avanzamento possiamo andare avanti praticamente così titolo 2 ricerca 1 a voi a san giovanni in croce ricerca, ricerca 2, perché questo qui provvede anche automaticamente a fare spaziature, adesso andiamo avanti, ricerca 4, ricerca 5 e ricerca 6, praticamente perché stiamo facendo, e facciamo un'altra ricerca 7, siamo sul laghetto, ricerca 8 e andiamo sulla chiesa di San Zevedro, quella che dal periodo romanico è stata ricostruita nel 1390-1400 ed è stata abbandonata appena iniziata la seconda guerra mondiale e si trova in uno stato di abbandono, adesso andiamo avanti un attimino, ecco fatto, e questa qui sarebbe la chiesa romanica com'è. Allora, le volte sono state fatte nel 400-500, però la pavimentazione, le belle arti l'hanno tirata su tutta e praticamente sono sotto le tombe ancora del 1300-1400 per terra ovviamente, essendo la pavimentazione stata tirata su, si scorgono praticamente i resti della vecchia chiesa romanica, ecco tutto qua, va bene, adesso spegniamo TUSCOS come dicono a Milano, ecco ho schiacciato Stop Play e questo qui è il DVD, quindi di conseguenza, adesso spegniamo la televisione, di conseguenza, adesso prendiamo i dischetti, eccola qua la campanina, io le prendo delle campane da 50, perché tante volte mi capita, non so, di darne via uno eccetera eccetera e dar via campane da 25 mi sembra di essere un pitocco, dar via campane da 100 DVD mi girano un po' le balle, mentre con le campane da 50 praticamente posso chiedere anche qualche euro, che però perché è 50, ora certo che se uno se ne masterizza due all'anno perché si sposa la figlia o ne compra una campanina da 5 o da 10 solo perché deve fare praticamente la cresima del figlio eccetera eccetera, io invece dovendo passare le mie migliaia di videocassette che ho giù di sotto, le sto passando, ne ho già passate circa 700, ho iniziato tutte quelle della musica tipo i Toto, Pink Floyd, le Zeppeline degli anni 80-90 e adesso ho iniziato anche tutti le videocassette di Walt Disney, poi ci saranno quelle dei documentari che alcune le ho fatte, perché non è che vado in ordine cronologico tutto, che ne so, tutto Walt Disney o tutto musica o tutto, a seconda di quello che mi capita in mano, poi praticamente sono abituato anche a, dalle videocassette a passare dei film abbastanza storici, in modo che quando sono passati su DVD, ah, poi c'è una cosa, che quel masterizzatore là, quel masterizzatore che abbiamo visto, che il tutorial è ancora acceso e in piena funzione, non solo masterizza da hard disk a sim, non solo masterizza da hard disk a DVD, può masterizzare anche da hard disk dentro a videocassetta, però c'è anche la bellezza, questo qui professionale, che se voi acquistate un DVD, pin Floyd, quello che volete, lo mettete su, immagazzinate il contenuto nell'hard disk rigido, poi tirate via il DVD originale, mettete su un DVD di questi, vergini, e lui vi ribalta sopra il concerto dei pin Floyd, del DVD originale, dunque se voi siete 3, 4, 5 amici, e acquistate praticamente un DVD musicale, che ne so, dei pin Floyd, dei Led Zeppelin, di chi volete voi, capisco che uno dice, io sono più furbo, vado su YouTube e mi scarico quello che voglio, ma certo, ma indubbiamente, allora, su YouTube è in compressione, perché i dati sono compressi, e la musica è in mp3, sul DVD, quando voi comprate il DVD originale, lo mettete là, e finché lo guardate, lui automaticamente lo memorizza su hard disk, oppure può, diciamo, memorizzarlo anche in modalità veloce, nel senso che nel gioco di 3 minuti, 2 minuti e mezzo, un DVD lo, diciamo, lo memorizza su hard disk, tirate fuori l'originale DVD, mettete sopra uno vergine, schiacciate play, e automaticamente il DVD che avete immagazzinato prima originale, ve lo restituisce sotto forma di, perfettamente uguale all'originale, sotto forma di copia, come quando la gente faceva le videocassette, oppure le stereo sette della musica in macchina, praticamente con due registratori, uno mettevi sull'originale, l'altro mettevi sulla cassetta vuota, e duplicavi la cassetta, qual era il problema una volta? Che i duplicatori di cassette, anche se erano buoni, anche se erano Pioneer, se erano una camicia, eccetera eccetera, avevano sempre perdite di qualità, mentre il DVD, quando voi avete messo su, i Led Zeppene, i Pin Floyd originali, avete immagazzinato il DVD, sul vostro hard disk all'interno del masterizzatore, dopo di copia potete farne anche 5000, che verranno fuori sempre, dalla prima all'ultima, uguali all'originale, non saranno stampigliate sopra, con i lughi, diciamo dei complessi, dei Nomadi, Pin Floyd, le Zeppelin, Getrotal, quello che volete voi, però praticamente basta avere un penarello, e scrivere qua sopra, quello che volete, voi potete avere la vostra Cineteca, io ho una campana del genere, a Verona, da 50, non so se l'ho pagata, 7-8 euro, praticamente, 1000 cd li pago, sugli 80-90 euro, 1000 DVD vergini, dopo, io tante volte acquisto anche i cd, perché i cd vanno bene anche, per salvare i dati sul computer, oppure per duplicare, i cd, che ne so, io ho Vasco Rossi, e chi volete voi, insomma, ecco, dunque, adesso, sono 2-3 anni che non ne compro più, perché ne ho ancora circa 250 DVD, e un 150 cd, ancora vergini, dunque, di conseguenza, non masterizzo dalla mattina alla sera, anzi, adesso, ho colto l'occasione di andare a San Giovanni in Croce, praticamente, oggi con Mariella, perché, loro hanno abitato là tanti anni, come, come fattori, coltivatori della terra, i loro, i loro nonni, a dire la verità, ancora negli anni 60-70, il papà della Mariella è morto l'anno scorso, però faceva il muratore, però, voglio dire, siamo tornati nei paesi dove loro hanno abitato, per svariate, ma tante decine di anni, e abbiamo fatto una panoramica, praticamente, di quello che è Villa Medici, e un po' intorno, adesso, ovviamente, sarà mia cura, masterizzare una ventina di DVD, così le do a tutte le sue zie, cioè, ci penserà Mariella, insomma, dopo, praticamente, ho le custodie vuote, quelle normali per DVD, non quelle lì di plasticotto rigido, ma proprio quelle vere, nel senso, non so se si vedono, queste qua, insomma, eccole, queste qui, queste normali, quelle che quando andate a comprare, un DVD, insomma, ecco, giù di sotto, sempre nella fabbrica di Verona, loro vendono in balli, da 250 custodie vuote, oppure vendono in balli, da 120 custodie per cd, solo che adesso, me le danno anche, un prezzo molto particolare, le custodie vuote, perché più che andiamo avanti, e più funziona meglio, praticamente, lo smartphone, e tutto quanto, sim, pennette, e allora, non è che il DVD e il cd, stiano tramontando, diciamo semplicemente, che in seno ai giovani, non hanno più, 20, 25 euro, o 15 o 18, per comprarsi un cd, o un dvd, e gironzolano, ovviamente, per YouTube, perché sono giustamente più intelligenti, più furbi, cosa volete che vi dica, chi invece vuole la nastroteca, vuole la cineteca in casa, perché dice, io in ogni momento, me la voglio vedere, come Dio comanda, io prendo su, un dvd, che tanto a me, costano, qualche centesimo l'uno, dopo che li ho masterizzati, non faccio altro che mettere su, sui vari dvd, che ho, perché ne ho, solo qui ne ho, quello sotto nero, della Pioneer, poi ho quello sopra, metallizzato, della Roadstar, poi lì sopra, ho quello della Panasonic, che è quello che va d'accordo, con la televisione, e qui c'è il masterizzatore, della Sony, e sotto, praticamente, c'è un audio, audio video, a sette canali, più uno, quindi di conseguenza, io preferisco, masterizzarmi, i dvd, e quando me li vedo, praticamente, sono sicuro, che la qualità, è uguale, all'originale, bene, adesso, avete visto in diretta, anche, il sistema di masterizzazione, del dvd, avete visto, quanto è facile, nel senso, che praticamente, io ho caricato, praticamente, dalla telecamera, che sta usando, in questo momento, ho caricato, il film qua dentro, tramite, la linea 2, eccola qua, che sarebbe, quella con il rca, poi c'è anche lsg, posso mettere dentro, la sim, anche direttamente, ma, preferisco, farlo in diretta, con il cavetto, VGA, e tutto quanto, mini VGA, poi, di dietro, c'è l'HDMI, con quattro uscite, perché l'HDMI, per chi non lo sa, è solo in lettura, e non è in scrittura, quindi, di conseguenza, è inutile, che io mi attacchi, sulla telecamera, con l'HDMI, perché non trasmette i dati, quindi, l'unico sistema, è quello del mini jack, stereo, più l'audio, più il video, insomma, che ho qui nella telecamera, col cavetto da 3 metri, con i 3 rca, giallo, rosso e bianco, entro, nel masterizzatore, e, grazie al supporto, dell'HD, da 100 giga, lo memorizzo, e da lì, quando è memorizzato, dentro lì, posso fare 50, 20, 80, 300, 500 film, uguali, posso masterizzare all'infinito, allora, al momento attuale, nel Sony, ho 180 film, compressi, fortuna che questo lavora in decompressione, e 85 film, non compressi, e c'è poco spazio, però, insomma, quando io ho masterizzato, come ho detto prima, quando io ho masterizzato un dischetto, anche se poi cancello la memoria, io non faccio altro che inserire il dischetto, nel masterizzatore, lui copia quello che c'è sul dischetto, tira via questo, tiro via questo, ne mette un altro vergine, e lui mi ribalta sul secondo DVD, praticamente la stessa cosa, quindi, è inutile occupare memoria, nel masterizzatore, quando io praticamente, ho già i DVD, che me li sono fatti originali, dunque, ogni volta che io voglio duplicare, praticamente, uno dice Carlo, duplicami per favore, che ne so, io il matrimonio di mio genero, ora, io prendo dal mio archivio, il DVD, del suo matrimonio, lo metto su, lo carico, che ci mette 4 minuti a caricarsi, estraggo il DVD, quello originale che ho fatto, ne metto su uno vergine, e nel giro di un minuto e mezzo, mi fa la copia, dunque, il DVD lo tengo sempre con me archivio, altrimenti, qui dovrei avere bisogno di 500 giga, e non, cioè, è anche stupido, ecco, quindi, di conseguenza, avete visto, come si masterizza un DVD, e successivamente, come si guarda, ecco, spendendo che roba, comprando la macchina, poi i DVD, una volta, sì che costavano l'ira di Dio, ma adesso i DVD e i CD, una campana da 100, se andate anche su internet, una roba e l'altra, con 15-20 euro, la portate a casa, o 25, certo che portate a casa, merda cinese, se volete, Maxel, TDK, Media Data, e altre ditte, che producono per la Rai, o per Mediaset, eccetera, eccetera, giustamente, costano un attimino di più, tipo 40-50 euro, una campana da 100, circa 50 centesimi, cada uno, mentre, se comprate, la porcheria cinese, logicamente, una campana da 100, con 15-18 euro, ve la danno, dopo uno salta, quell'altro, i file, praticamente, si perdono, e si inchioda il disco, nella riproduzione, eccetera, eccetera, quindi, è preferibile, che andate sempre, a prendere, dischetti vergini, di una certa qualità, ciao a tutti, a tutti,